Perciò oggi, come introduzione, vogliamo vedere alcuni esempi di come tali correnti si formino in determinati casi. Qui si deve però prendere in considerazione una cosa, la conoscenza dell'uomo, specialmente nei confronti dell'uomo in divenire, del bambino, viene esercitata in modo che noi abbiamo il bambino in un certo momento della sua vita. Ci occupiamo di lui, cerchiamo le sue forze di sviluppo, ci chiediamo come tali forze operino in una data età e così via. Ci domandiamo che cosa dobbiamo fare per andare incontro nel modo giusto, in una data età, a queste forze di sviluppo. Ma la conoscenza dell'uomo, come qui viene intesa, non riguarda soltanto questi singoli momenti di esperienza. Tale conoscenza dell'uomo riguarda tutta la vita terrena dell'uomo. Questo non è comodo come lo è osservare un limitato periodo della vita umana. Per l'educatore e per l'insegnante però è necessario prendere in considerazione l'intera vita terrena dell'uomo. Perché ciò che noi seminiamo nell'ottavo nono anno di vita del bambino ha i suoi effetti nel quarantacinquesimo, nel cinquantesimo anno di vita dell'adulto. Ne riparleremo più tardi. E quanto io come maestro faccio nei riguardi del bambino di età scolare entra profondamente nella natura fisica, psichica e spirituale dell'uomo. Ciò che per così dire rama e tesse per decenni sotto la superficie torna alla luce in modo singolare dopo decenni, talora alla fine della vita dell'uomo, mentre è stato messo in lui come un seme all'inizio della vita. Si può agire sopra l'età infantile nel modo giusto solo se si considera non solamente tale età infantile ma l'intera vita dell'uomo con vera conoscenza dell'uomo stesso. Volendo ora dimostrare con qualche esempio, oggi sono di sfuggita poi se ne parlerà con più esattezza, come l'anima del maestro possa agire intimamente su quella del bambino, io tengo presente tale conoscenza dell'uomo. Noi impariamo a fare quello che dobbiamo nell'istruzione, nell'istruzione intellettuale, nella direzione degli impulsi della volontà, solo quando sappiamo che cosa opera dunque tra maestro e bambino. Solo per il fatto che maestro e bambino si trovino di fronte, ognuno con una particolare natura, con un particolare temperamento, con un particolare carattere, un particolare grado di sviluppo e una particolarissima costituzione fisica ed animica. Prima di incominciare in qualche modo a distruire, ad educare, siamo di fronte noi e il bambino. C'è già un operare tra i due. Come è il maestro di fronte al bambino? Ecco, questa è la prima domanda importante. Per non andare brancolando in astrazioni generali, ma per considerare qualcosa di preciso, partiamo da una caratterizzazione particolare della natura umana, dal temperamento. Non consideriamo per primo il temperamento del bambino, dal momento che non possiamo sceglierlo, dobbiamo educare ogni uomo di qualsiasi temperamento. E del temperamento del bambino parleremo più avanti, ma anzitutto consideriamo una volta, per circoscrivere il nostro compito, il temperamento del maestro. Il maestro entra in classe con un temperamento tutto particolare, collerico, flemmatico, sanguinico o malinconico e si pone di fronte al bambino. Alla domanda che cosa dobbiamo fare come educatori per controllarci, per educare noi stessi specie il rapporto col nostro temperamento, si può rispondere soltanto se si considera la questione fondamentale, ovvero come agisce il temperamento del maestro sul bambino per il semplice fatto di essere lì? Partiamo dal temperamento collerico. Il temperamento collerico del maestro si può esplicare in modo che il maestro lasci libero corso al suo temperamento, cioè visi abbandoni. Come egli debba dominarsi lo vedremo poi, ma anzitutto prendiamo atto che questo temperamento è semplicemente lì. Questo si manifesta e si palesa impetuosamente e violentemente. Forse spinge il maestro, mentre educa, mentre insegna, ad agire e a trattare il bambino in un modo che è dovuto proprio al suo temperamento e di cui più tardi si pente. Forse egli, in vicinanza del bambino, fa qualcosa che mette paura a quest'ultimo e noi vedremo come è delicata l'anima del bambino. Lo spavento può essere soltanto passeggero e tuttavia può propagarsi fin entro l'organizzazione fisica del bimbo. Un maestro collerico può anche essere la causa per cui il bambino si avvicini al maestro con continui sentimenti di paura, oppure del tutto inconsciamente nel suo inconscio si senta oppresso. Insomma c'è da considerare un'azione tutta particolare di natura sottile, intima, delicata del temperamento collerico sul bambino. Prendiamo un bambino ancora in tenera età, in un'età che preceda l'obbligo della scuola elementare. Questo bambino è assolutamente un essere unitario. Le tre parti costitutive della natura umana, sappiamo essere corpo, animo e spirito, si differenziano tra loro soltanto più tardi. Fra la nascita e la seconda dentizione, che indica un punto molto importante della vita nello sviluppo dell'uomo, c'è un periodo della vita del bambino in cui, per così dire, noi di solito non lo osserviamo abbastanza, il bambino è quasi tutto organo di senso. Osserviamo un organo di senso e precisamente l'occhio. Impressioni esteriori, impressioni di colore, si accostano all'occhio. L'occhio è intimamente organizzato in modo da assorbire le impressioni di colore. Senza che l'uomo vi eserciti un influsso, subito ciò che agisce come stimolo esterno viene tramutato in qualcosa di volitivo che soltanto dall'anima, come si dice, può essere sperimentato. Ma animica in questo modo è tutta la vita del bambino, prima della seconda dentizione, nel campo delle percezioni dei sensi. Ogni esperienza interiore assomiglia ad una percezione animica, specialmente le impressioni che gli vengono dalle persone che lo circondano. Se ci muoviamo lentamente vicino al bambino e con ciò riveliamo l'indolenza del nostro elemento animico spirituale, oppure se ci muoviamo impetuosamente, rivelando così l'irruenza del nostro elemento animico spirituale, tutto questo viene accolto dal bambino quasi con la medesima intensità con cui, in altro modo, vengono accolte da un organo di senso le impressioni che agiscono su questo stesso organo di senso. Il bambino nel suo insieme è un organo di senso, si può dire. Quando siamo adulti abbiamo il gusto nella bocca, nel palato, nella lingua. Il bambino sente il gusto molto più profondamente nel suo organismo. L'organo del gusto si estende, per così dire, in una grande parte del corpo. Così gli altri sensi. Gli influssi della luce nel bambino si legano profondamente con i ritmi della respirazione, penetrano nella circolazione del sangue. Quanto nell'adulto viene isolato nell'occhio, il bambino lo sperimenta attraverso tutto il corpo. E senza che intervenga il ragionamento, vengono a galla gli impulsi della volontà come un fenomeno riflesso. Parlo anzitutto di ciò a modo di introduzione per raggiungere al tema. Così tutto il corpo del bambino agisce come organo di senso, come riflesso di fronte a quello che accade nell'ambiente che lo circonda. Per questo però spirito, anima e corpo non sono ancora articolati, non sono ancora differenziati nel bambino. Sono un'unità, un continuo tessere di uno nell'altro. Lo spirituale, l'animico, opera nel corpo e influisce direttamente su processi di circolazione e di nutrizione. O come l'anima del bambino nelle sue sensazioni è legata all'intero sistema del ricambio, come operano insieme. Soltanto più tardi, con la seconda dentizione, l'anima si differenzia maggiormente dal ricambio. Nel bambino ogni emozione dell'anima passa nella circolazione, nel respiro, nella digestione. Corpo, animo e spirito dunque sono ancora un'unità. Perciò ogni stimolo che viene esercitato dall'ambiente si propaga fino al fisico del bambino. Ecco dunque nell'ambiente del bambino un maestro collerico che lascia libero corso al suo temperamento collerico. In principio è semplicemente lì, vicino al bambino, e non si controlla. Poi gli scoppi del temperamento collerico, cioè quanto viene fatto sotto l'influsso del temperamento del maestro, se questi non esercita quell'autoeducazione di cui parleremo più tardi, scavalcano l'anima del bambino proseguendo fin dentro il corporeo. Qui sta la particolarità che tutto questo scende nelle profondità dell'essere e tutto ciò che passa nel corpo dell'uomo in divenire più tardi ricompare, come un seme che viene gettato nella terra in autunno e in primavera riappare nella pianta. Ecco così quanto viene seminato nel bambino di 8-9 anni riappare nel 45esimo o 50esimo anno di vita e noi vediamo le conseguenze del temperamento collerico del maestro che perde il controllo di sé in malattie del ricambio, non solo dell'adulto ma anche del vecchio. Se esaminiamo bene perché questo o quell'uomo nel suo quarantesimo, cinquantesimo anno ci si presenta come un reumatico, come uno che soffre di tutte le possibili malattie del ricambio di cattiva digestione, se si esamina perché quest'uomo è quello che è perché ha l'artrite, si arriva a questa risposta. Molto va scritto al temperamento collerico senza freno del maestro che stava davanti al bambino, nell'età infantile. Se per avere principi pedagogici, impulsi pedagogici, si considera così l'intera vita umana e non come più comodo solo l'età infantile, allora ci diventerà ben chiaro quale centrale significato in tutta la vita dell'uomo abbiano proprio l'educazione e l'insegnamento. E come sovente felicità ed infelicità, nello spirituale, nell'animico e nel corporeo, dipendano dall'educazione e dall'insegnamento. Quando si vede come il medico deve correggere, senza che lo sappia, nell'uomo divenuto vecchio, gli errori dell'educazione e sovente non può più farlo perché essi sono penetrati troppo a fondo nell'essere umano, allorché si vede che quanto giunge animicamente al bambino si trasforma in effetti fisici, allorché si osserva questo reciproco agire tra fisico e psichico, allora si giunge alla giusta attenzione al giusto apprezzamento per ciò che deve essere veramente la metodica dell'insegnamento, per quelle che devono essere veramente le esigenze dell'educazione, semplicemente secondo l'essenza stessa della natura umana. Ora osserviamo un maestro flemmatico che si abbandona e non controlla il suo temperamento mediante autoconoscenza ed autoeducazione. Si potrebbe dire che quando un maestro flemmatico si accosta al bambino non accade abbastanza per l'intima attività del bambino. Gli impulsi interiori vogliono venire alla superficie, si esplicano. Il bambino vuole manifestarsi. Il maestro è un flemmatico, è indifferente, non raccoglie quanto fluisce dal bambino. Ciò che vuole esprimersi dal bambino non incontra impressioni, non incontra influssi esterni. Se posso usare un paragone fisico direi che è come dover respirare un'aria rarefatta. L'anima del bambino prova una difficoltà animica di respiro quando il maestro è flemmatico. Quando poi nella vita indaghiamo perché certi uomini soffrono di nervosismo, di nevrastenia o di malattie simili e osservando il corso della loro esistenza torniamo al tempo dell'infanzia, troviamo ancora che alla base di tali tendenze alla malattia sta alla flemma di un maestro che non si è autoeducato e che avrebbe dovuto fare qualcosa di importante per il bambino. Si possono così spiegare interi fenomeni sociali di natura morbosa. Perché il nervosismo, la nevrastenia si sono così spaventosamente diffusi nel tempo più recente. Voi direte, allora si potrebbe credere che tutto il corpo insegnante fosse costituito da flemmatici nel tempo in cui vennero educati gli uomini che oggi sono nervosi. Io però vi dico che era costituito da flemmatici non nel senso comune della parola ma in un senso molto più vero perché ad un certo momento del secolo XIX è spuntata la concezione materialistica del mondo. Tale concezione ha interessi che allontanano dall'uomo, che sviluppano nell'educatore un'enorme indifferenza per le emozioni intime dell'anima dell'educando. Chi poteva osservare senza pregiudizi questi fenomeni culturali del tempo più recente. Poteva trovare un maestro che, pur essendo un flemmatico e avendo forse il principio astratto che i suoi scolari non dovevano rovesciare per stizza i calamai, diceva non si deve fare una cosa simile, non si deve rovesciare per ira il calamaio. Ragazzo, ora ti butto il calamaio in testa. Dunque non si deve pensare subito che ogni collera di quel genere, nell'epoca di cui parlo, fosse proibita o che non si conoscessero dei sanguinici e dei malinconici. Il rapporto al loro compito educativo erano non di meno dei flemmatici. Con la concezione materialistica del mondo non si riusciva ad accostarsi all'uomo e tantomeno all'uomo in divenire e così si poteva essere flemmatici mentre poi nella vita si era collerici o malinconici. In una certa epoca dello sviluppo materialistico è subentrata una flemma in tutta l'educazione. E da quella flemma si è sviluppato in molti uomini quanto nella nostra vita culturale è subentrato come nervosismo, come nevrastenia, come disorganizzazione totale del sistema nervoso. Più tardi dovremmo parlarne in particolare, ma così per il semplice fatto che il maestro flemmatico sta vicino al bambino, vediamo poi venire in luce tale temperamento flemmatico nelle disfunzioni del sistema nervoso. A presto con la terza ed ultima parte.